Se cerco porno qui, che esce? Ah! Qualcosa c'è! Però non è porno. Endjobs online. Eh, sì, eh. Ecco. Ciao a tutti bimbi belli, buon salve! E buon appetito perché pubblico sempre i video a mezzogiorno. Oggi, signori, torniamo da Roman. Altra missione per il cugino del protagonista e vediamo cosa da dirci dopo che nella scorsa abbiamo fatto un favore per Michael Faustin. Abbiamo ucciso non solo il fidanzato di sua figlia ma anche tutta la sua gang. Anche se l'altra la gang dei Lost è veramente ampia e quindi neanche in GTA V verranno ammazzati tutti, quindi ve lo dico già. E ragazzi, proseguiamo, proseguiamo, proseguiamo. Tra l'altro col mega patrimonio di 1853 dollari andiamo a flexarci tutti quanti. Cazzate a parte, Roman Bellic. Logging on. Brucey! Cosa spero ti? Brucey! Hai metto il mio figlio? Niko, questo è Brucey. Abbiamo incontato online. Oh, loveme.net? No! In a dark corner, doing dark deeds. We're both players, my friend. Players! VIP! For real! Classy! But also sexy! Hmm. That's how I like my women. I work at it, so they should too, right? What is he talking about? Brucey is a dreamer, he understands my vision. Oh, so he's an idiot. Hey! Ha ha ha, screw you! Listen man, you should try going online. Oh, I know how to go on the line. I just haven't done it here. Ah, ok, qua. Scopriamo praticamente gli internet caffè. It's a world of opportunities. So, cheers. Uh, all kinds of things. Yesterday I was online and I discovered a blog about women who don't like to shave. That's pretty important. Che schifo. I promise, Brucey... Con tutto rispetto, eh. Non mi piace. Can you go out and get it sorted? Eh, ok. Go to Twat. In registro uno dei PC is there. A pretty girl is expecting you. I'm bored of not being able to email your cousin. and the family keep sending me news for you. Brucey, stop exercising. Ok, let's put some bitches to the sword. VIP stock, come on! He's a cool guy. Eh... Grandissimo. A bai quando parlo russo, proprio... Sboro, sboro signori. Giorgio. Get a lot of people together. To really rally, you know, and feel the music and the message. And once you feel that... And once you feel that... You feel that... Giorgio. Incanzatevi tutti. Toglietevi dai coglioni. Minchia sta parlando del lettore mp3 c'è Quello che c'è in radio è la pubblicità di un lettore mp3 Di un fottutissimo più o meno Walkman Pensate quanto cazzo di tempo è passato mo che ascolta le canzoni con Apple Music E nonostante tutto gioco ancora sto gioco è perché veramente Una favola Perché c'eri tu per quello sono venuto qui E' vero io posso anche sparare computer Non voglio l'aria privata scusate Questa sa molto della missione Friend Request di GTA V Web Se cerco porno qui che esce Qualcosa c'è Però non è porno E' in jobs online Eh sì Ecco Ok Allora mail Roman sicuro Tra l'altro queste email qua le mandano ancora MicoBelicChioccioLiveFile.if Minchia che freddezza Allora aspetta 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 Suoneria No Davvero Vabbè la qualità è di merda Ok questo è per i messaggi Credo Cazzo 100 dollari Minchia che freddezza Voglio lo champagne Voglio le lesbiche Voglio lo sfondo delle minne Ma come non supporta E' vero c'è da cambiare telefono prima Suonerie Questa qui Carina No come non supporta My room online No adesso ragazzi Mi ci diverto troppo Questa c'ha 16 anni raga Puoi farci niente Peccato No vabbè Mi dissocio Soldi Non posso comprare auto No Sì 130.000 Ok Ce ne compriamo una Non vi preoccupate Automatic car Vabbè Ecco una volta internet Nel 2008 Non è che fosse così C'era ovviamente internet Ma non è Che fosse così Saturo di minchiate Come lo è oggi Ciao Ciao Nuovo contatto brusi Non ci pagano per questa misura Ci mancherebbe anche La prossima È per Little Jacob Quindi mi porterò La vicino Non ci pagano Grazie a tutti. Ok ragazzi, io qui vi saluto, vi chiedo di lasciare un like al video, così, un'iscrizione, una campanella, magari anche un commentino se volete. Grazie ragazzi della visione, ci vediamo alla prossima, vi voglio veramente un sacco di bene e statemi ok.